Eccola la macchina che entra nella retta delle tribune, va gradualmente accelerando. Stacco in questo istante. E lottano Rainbow, Radix e Rania. Radix e Rania in coppia passano con Rania che insiste su Radix di costa e sfila dopo 200 metri. Cooper in 13 e 3. Problema invece per Ruperto L che sbaglia. Prima curva Rania Hans, Radix di costa, Rainbow S che lascia lo steccato, poi Rina da Pisa. Rainbow va su Rania Hans, 28 e mezzo per i primi 400 metri e sfila. Completata anche la prima curva, Rainbow S in vantaggio davanti a Rania Hans, poi Radix di costa, Rina da Pisa, Ramirez che risale. Ancora Renato, poco più indietro. Ravernell e Riobranco, Luis 800 in 59, appena scarso, Rainbow al comando all'imbocco della curva conclusiva. Rania Hans di rincalzo, Ramirez all'esterno, poi Radix di costa, Rina da Pisa a largo. Il primo chilometro è andato in 1,14 scarso, Rainbow al comando a metà della piegata conclusiva. Cerca la fuga a palo lontano, Rainbow S, Rania e Ramirez in coppia a tre lunghezze. Poi Radix e Rania Hans, si prepara anche Renato, ingresso e la renta di arrivo, Rainbow S al comando. Poi Rania, Ramirez, Radix all'interno, a centro pista, Renato, Rainbow al comando. A 150 dal palo, Rainbow ancora in vantaggio, chiude bene, Renato. Rainbow cerca la difesa, Renato guadagna, il palo si avvicina, Rainbow è stanco, Renato attacca sul palo. Sul palo finiscono in linea Rainbow S e Renato, terzo dovrebbe essere Rina da Pisa. Ma rivediamola perché sono finiti molto vicini, Renato veniva a velocità molto maggiore rispetto a Rainbow, quindi anche individuare il punto esatto sul filo e i distacchi precisi sul filo è impresa non facile. Il cameraman ha scelto Rainbow S come vincitore, come avete visto si è soffermato su di lui. Vediamo sul filo. Sì, però ecco, dovrebbe essere Rainbow. Però attenzione perché c'è la prospettiva, eh? Non sarebbe la prima volta che la prospettiva inganna con la telecamera. Il terzo per l'eghina da Pisa, sensazione Rainbow S, ma si aspetta la conferma dal fotofinish. Il tempo al chilometro, io ho 1.58.7, 14.2, 14.3 dovrebbe essere riferimento.